Gialla, sporca, non è certamente la bevanda più invitante, ma è l'acqua che più di 300 milioni di persone che vivono nell'Africa subsahariana bevono ogni giorno. Un'emergenza alimentare e sanitaria che molte persone che vivono nelle nazioni più benestanti forse non conoscono. Da questo è partita l'iniziativa Water of Africa dell'organizzazione Azione contro la fame, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sulla carenza di acqua potabile con cui centinaia di milioni di persone devono fare i conti sul nostro pianeta. Acqua contaminata, acqua che contiene batteri, infezioni che danno poi i virus intestinali e purtroppo l'acqua sporca e contaminata con questi virus è una delle prime cause della malnutrizione infantile, che ogni anno uccide 2 milioni di bambini sotto i 5 anni di età. Così, l'ultima settimana di marzo sono state esposte in alcuni supermercati e punti vendita italiani le bottigliette d'acqua sporca e contaminata con l'etighetta Water of Africa per mostrare ai clienti quella che per molte persone è la normalità. Le loro reazioni sono state filmate e proposte in un video. Non si tratta solo di un fatto visivo di gusto, ma di una piaga che causa ogni anno centinaia di migliaia di malattie e morti. Il 90% si stima essere bambini sotto i 5 anni, circa 500 ogni giorno. Le iniziative di sensibilizzazione e di azione contro la fame non si fermano qui. A giugno ci sarà in cammino per l'acqua. Le inviteremo a percorrere 5 km a piedi verso una fonte di acqua potabile, che è la distanza media che percorrono tipicamente donne e bambine per andare a cercare l'acqua pulita. In questo modo le persone potranno vivere l'esperienza che tante, migliaia di donne e bambine appunto vivono quotidianamente e tramite un meccanismo di piccola sponsorizzazione di crowdfunding, potranno in se stesse diventare parte della soluzione e raccogliere quindi i fondi che saranno poi investiti appunto in progetti per dare acqua pulita, pozzi e strumenti di igiene alle persone che non ne hanno.